Gentili telespettatori, buona giornata. Mario Draghi e l'indiscrezione da Palazzo Chigi. La missione di Draghi sarebbe quasi conclusa. E adesso che si fa? Si torna al voto? Realmente è quasi conclusa la missione di Mario Draghi? In realtà, sì. Non è facile capire quello che sta pensando Mario Draghi in questo momento. Quelli che lo conoscono, quei pochi, giurano che stia già pensando al trasloco da Palazzo Chigi al Quirinale. Probabilmente per questa ragione la Repubblica in un retroscena dice che il Premier ha in mente un'accelerazione delle riforme contenute nel recovery plan, dalla campagna vaccinale e dai ristori. Insomma, obiettivo portare l'Italia fuori dall'emergenza a gennaio. Quindi concludere il suo mandato e prepararsi a succedere a Sergio Mattarella. Questa potrebbe essere assolutamente la realtà. Perché? Intanto il recovery plan è stato inviato. Le vaccinazioni galoppano. Siamo a oltre 500.000 al giorno. Naturalmente che cosa rimane da fare? Le cose più importanti erano le vaccinazioni e il recovery plan. Tutte e due sono già in processo, avanzato. Mentre il recovery plan, naturalmente il problema adesso sarà attuarlo. Ma sarà attuato da qui al 2026. Il problema è proprio se l'Italia sarà capace ad attuarlo. Perché in passato non è stata capace l'Italia a spendere i soldi dell'Europa per mancanza proprio di piani attuativi, di tutto. Soldi inutilizzati perché l'Italia non riesce a spenderli, quelli dell'Europa. Adesso potrebbe accelerare sul piano delle riforme che potrebbero permettere di spendere bene e spendere soprattutto questi soldi in arrivo. Perché se non li spendi, e non li spendi nel modo corretto, finiscono di darteli. Non sarà così semplice. Beh, ci sono le forti preoccupazioni europee sulla capacità italiana di attuare questo PNRR per i partiti e per i concorrenti al Colle. Soprattutto però per questo Parlamento che ha più volte dimostrato di essere capace di qualsiasi cosa e di esercitare una notevole resistenza davanti alla possibilità di uno scioglimento anticipato, specie con la prospettiva di un taglio dei seggi. Ecco, i grillini che cosa hanno portato? Con il taglio dei seggi hanno portato che questo governo non cade mai. Con il loro vincolo del secondo mandato hanno portato sempre i grillini ad aggrapparsi a qualsiasi partito per non far finire il governo. Diciamo che le direttive dei 5 Stelle portano, soprattutto hanno portato questo governo a non cadere mai. Perché se no, sono molti perderanno il lavoro. E non mi sembra una grande conquista questa. La maggioranza parlamentare infatti trema al pensiero di veder salire al Colle Draghi perché questo significherebbe andare al voto già nel 2022. E però proprio l'idea delle elezioni anticipate, grazie a un'ascesa di Draghi al Quirinale, tenta sia Matteo Salvini che Giorgia Meloni, oltre che un pezzo di Forza Italia, tutti convinti di capitalizzare il vantaggio attribuito dai sondaggi. Io non so cosa voglia fare il Premier, ma non lo vedo a farsi logorare nel 2022 da una maggioranza litigiosa che perderà il collante dell'emergenza, dice Renato Schifani, consigliere politico di Silvio Berlusconi. Ma il voto nel 2022 in realtà potrebbe tentare anche Enrico Letta, se i sondaggi dovrebbero dare in risalita il PD. Diversamente dal loro segretario, però nel centro-sinistra sono in tanti a sperare che Draghi resti fino a fine legislatura. Soprattutto i grillini, come vi dicevo, parlavamo nel video precedente a questo, 100 parlamentari grillini su 300 più o meno, il 33%, uno su tre dei grillini, con la fine di questo governo sono politicamente disoccupati, non sono più rieleggibili perché hanno il vincolo del secondo mandato. E così, naturalmente, una parte dei Cinque Stelle è contraria al voto, l'altra parte è contraria allo stesso perché anche loro hanno il vincolo del secondo mandato, quindi più dura una legislatura, più stipendio hanno. Anche quelli che non perdono il lavoro oggi e probabilmente verranno riconfermati in un prossimo giro, se questo governo dura meno, loro hanno solo due mandati da fare, è una riduzione dello stipendio, quindi nel complesso tutti i Cinque Stelle non vogliono andare al voto. Speranza con Leo non vuole andare al voto perché Speranza fa il ministro, loro sono nel governo, con un voto e con l'attuale legge elettorale probabilmente non avrebbero neanche l'accesso al Parlamento, sapete che c'è una soglia di sbarramento al 3%. Anche Renzi non vuole andare al voto perché Renzi andando al voto il suo partito sparisce, ha il 1,9, il 2%, e Renzi non è ancora riuscito a rientrare nel Partito Democratico. Che fa? Sparisce dalla politica anche Renzi? E poi tutti i partiti piccoli non hanno nessuna intenzione di andare al voto, neanche Calenda vuole andare al voto perché sta sperando, spera di riuscire a consolidare e aumentare i suoi voti in modo da essere più sicuro di entrare in Parlamento perché ha il 3,3,5, chi lo dà al 4? Ecco, lui punta magari ad arrivare a un 5% che gli permetterebbe di essere più sicuro, ecco, più sicuro di essere presente nella prossima legislatura. Enrico Letta potrebbe essere tentato anche se il suo partito è al 19%, diciamo che ci sono 4 partiti in 3-4 punti, PD, Movimento 5 Stelle, Fratelli d'Italia e Lega sono in 3-4 punti percentuali. La Lega adesso viene data intorno al 21%, il Movimento 5 Stelle al 18-17%, diciamo che in 3-4 punti percentuali ci sono 4 partiti, tutti vorrebbero andare al voto tranne il Movimento 5 Stelle e quei partiti che vi raccontavo prima. Vedremo quello che succederà. Draghi cercherà di sistemare il più possibile le cose, accelerando sulle riforme in maniera molto accentuata per poter prepararsi, dire io vado al Quirinale, vi ho lasciato tutto pronto, apparecchiato, io dal Quirinale vi continuerò a dire fate qui, fate là, perché Draghi non sarà il Presidente della Repubblica che non dice, non sarà uno che parla dalla mattina alla sera, ma sicuramente dirà quando vede che non stanno facendo le cose del recovery plan, chiamerà quello che sarà il Presidente del Consiglio dicendogli guarda che fai questo, fai quell'altro, sarà una sorta di consigliere magari anche segreto del futuro Presidente del Consiglio, che sia Salvini, che sia Meloni, che sia Aletta, chiunque sia, ci sarà Mario Draghi che dal Quirinale interverrà sicuramente, darà stabilità anche Draghi al Quirinale anche in Europa, perché diranno, beh, c'è comunque sempre Draghi da sicurezza negli altri paesi. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.